Spazio ad hoc Puglia all'interno dello sportello del cittadino. Oggi un tema davvero interessantissimo rispetto al quale ci imbattiamo quasi ogni giorno. Parleremo infatti della contraffazione dei capi di abbigliamento e al mio fianco l'avvocato Cinzia Ligustro che è appunto un legale dell'ad hoc Puglia. Una situazione davvero pesante quella della contraffazione e soprattutto bisogna contrapporre dei rimedi, degli strumenti validi per arginare il fenomeno. Certamente. Infatti l'ad hoc quest'anno ha promosso un progetto che si chiama Io sono originale ed è un progetto di informazione al consumatore proprio sulla contraffazione in generale, quindi nei vari ambiti quotidiani in cui il consumatore si imbatte. In particolare oggi parliamo di contraffazione di abbigliamento, di capi di abbigliamento e vestiario. È un tema molto importante che spesso si sottovaluta perché solitamente il consumatore è più che altro impegnato a valutare il marchio o ad accaparrarsi il capo di abbigliamento di un determinato stilista. Però bisogna fare molta attenzione perché la contraffazione è sempre dietro l'angolo, è un pericolo sempre presente e né tantomeno, certe volte è sufficiente guardare l'etichettatura perché anche l'etichettatura è soggetta a contraffazione addirittura non solo nei vari elementi che la contraddistinguono ma anche nel copyright che viene spesso riprodotto. Quindi ecco come consiglio quello di affidarsi non solo all'etichettatura che può anche non bastare ma anche magari al prezzo che può essere un elemento discriminante o addirittura al luogo in cui si acquista il prodotto. Soltanto un accenno ai capi di abbigliamento per bambini che sono i soggetti che dovrebbero essere maggiormente tutelati, addirittura il Ministero della Salute sul proprio sito ha dedicato una particolare attenzione a questi nuovi elementi presenti nei capi di abbigliamento ftalati, una parola difficile ma con cui dobbiamo avere un po' di mistichezza perché sono presenti in tutti quei capi che contengono adesivi o parti gommate che possono essere molto pericolose.